Quello che è proprio tradizione del settore allevamento, quindi l'allevamento in tutte le sue sfaccettature, dal reddito alla parte agonistica ed è per questo che richiama molto le mostre inglesi e americane dove queste esposizioni sono proprio portate avanti in questi settori e poi c'è tutto il mondo espositivo legato alle attrezzature zootecniche, macchine agricole. Più di una fiera, più di un festival, un vero e proprio evento che per tre giorni animerà il prossimo fine settimana l'ipodromo delle Padovanelle di Padova. Un festival sul modello anglosassone con animali in esposizione, gare di bellezza e di agilità. Più di 300 i capi in esposizione. Il 7 e 8 sarà presente anche il festival delle DOP Venete. Qui c'è la presenza di tanti animali, tanto bestiame che richiami soprattutto la gente della città, i bambini, i ragazzi che vogliono vedere animali che non si vedono mai, che fanno gare di esposizione, di valutazione morfologica, cioè di bellezza. Gente dietro al mondo allevatoriale che passa la vita a allevare perché siano sempre più belli, più produttivi, eccetera, eccetera, portano i propri prodotti che sono nel mondo zootecnico oppure nel mondo agonistico, ad esempio nel settore del cavallo.